Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Valentina Ferragni aveva già raccontato i momenti magici della sua vacanza a St. Barthes con il fidanzato Matteo Napoletano, ma a due settimane di distanza decide di condividere con i follower anche la loro disavventura. La coppia ha sfiorato la tragedia durante un'escursione con la moto d'acqua, quando una tempesta li ha sorpresi in mare aperto. «Pensavo saremmo morti», ha confidato l'influencer che ha aggiunto, «mi sono rotta due costole». La vacanza a St. Barthes di Valentina Ferragni e Matteo Napoletano era sembrata un sogno. I due ne avevano approfittato per uscire definitivamente allo scoperto, dopo mesi in cui la loro relazione era sulla bocca di tutti ma senza che ci fosse l'ufficialità. Ma oltre ai momenti divertenti e alle pose romantiche, i due hanno dovuto affrontare anche un momento di panico. «Vi giuro mentre eravamo in acqua in mare aperto ho pensato al peggio», ha detto l'influencer ai follower, confidando anche, «è successo due settimane fa, non l'ho raccontato perché dovevo ancora assimilarla». Mentre eravamo sulla moto in mare aperto, il cielo si era fatto scuro, le onde altissime e la pioggia battente, e Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, inesperti sulle moto d'acqua, hanno difficoltà a seguire la guida e restano indietro. «Prendiamo un'onda fortissima e cadiamo in mare aperto. Nella caduta non so se ho sbattuto le costole contro la moto o Matteo ma fatto sta che non riuscivo a respirare per la botta», racconta l'influencer. A soccorrerli è un altro escursionista che si trovava con loro, mentre la guida arriva a recuperarli solo in un secondo momento. «Per fortuna ci è finita anche bene e siamo stati fortunati ma vi giuro mentre eravamo in acqua in mare aperto ho pensato al peggio», racconta la Ferragni che rivela di aver riportato la frattura di due costole e di aver perso un braccialetto, mentre il fidanzato ha smarrito lo smartwatch.